Sembra il set di un film di Ridley Scott. Come in Blade Runner, la mobilità alternativa pensata da Hyundai si trasferirà per aria con i taxi volanti, che nelle intenzioni di chi li ha progettati serviranno a dare respiro alle metropoli congestionate dal traffico. A Las Vegas, Hyundai ha illustrato la sua idea che attinge dalla fantascienza. Trasporto via terra con minibus da 4-6 metri a guida autonoma e per aria con gli SA1, piccole aeree a 6 eliche che la casa automobilistica conta di realizzare, a partire dal 2023 in partnership con Uber.